Sono Andrea Nelson Mauro, sono un data journalist e sono un fondatore di DataNinja.it. Parteciperò alla giornata del 16 di ottobre, cui topic è OpenCensus. Proverò a fare delle elaborazioni grafiche attraverso i dati del censimento 2011 dell'Istat. Sono molto contento, anche perché conosco molte persone che partecipano e che hanno dato un po' vita al movimento italiano degli Open Data. Sono contento e sono anche curioso di partecipare perché mi sembra che possa essere un momento di mashup tra vari soggetti che si interessano al tema dei dati. Anzi, i dati possono essere il collante tra gli attivisti, le istituzioni, le comunità di Open Data, ma anche le aziende. I dati sono un po' il denominatore comune. Il censimento è un po' l'unità di misura per tanti dati, perché la capacità di raccogliere dati a livello territoriale in tutto il paese diventa un elemento cruciale per ogni tipo di visualizzazione sui dati. Il censimento è un po' il grande dataset al quale necessariamente molte elaborazioni data-driven devono fare riferimento. È una roba fondamentale, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Spero innanzitutto di poter dare un contributo nel mio piccolo. Mi aspetto anche tanti stimoli dialogando con i soggetti che ci saranno, perché poi questi sono momenti in cui anche nelle parti più off, chiamiamolo back office, possono nascere tante idee, tante occasioni di approfondimento, di progettazione, di co-working e quindi sono momenti fondamentali. Assolutamente sì, a tutti i bolognesi, perlomeno quelli che riusciremo a raggiungere con questo video, e a tutti quelli che in qualche modo si troveranno a Bologna. Ci vediamo allora il 16 ottobre alle 14.30 al Data Lab di Smart Cities Exhibition dedicato all'Open Census. Grazie a tutti.